Buongiorno, buongia, amanti, amanti, sì, amanti della vita, amanti delle nostre più grandi passioni, amanti della scoperta. Ho creato questo canale per portarvi con me, per mostrarvi i miei luoghi, i luoghi che vorrò visitare, scoprire. Adesso mi trovo a Terracina, ho deciso proprio qui, in questo viaggio, di dare inizio a una serie di video che vi porteranno con me, che vi mostreranno le mie passioni, i miei interessi, che vanno dalla musica al viaggio. Non sono un informatore scientifico, non sono un divulgatore culturale, per questo ci sono altre persone più addette al mestiere. A me piace documentare, mi piace mostrare i luoghi che visito. Con un mio punto di vista, se vedete il mio Instagram, il mio Facebook, oramai da tempo, forse dal 2016, ho iniziato a fare queste foto, queste foto in cui non guardo mai in camera, ma guardo verso l'infinito. e questo è un modo per portarvi con me, per portarvi con me e per mostrare a voi tutti quello che vedo, quello che osservo. In questo mondo che va così di fretta, penso che sia necessario fermarsi un attimo, riflettere ed essere sempre curiosi, 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 la curiosità. La curiosità ci salverà, sì, ci salverà. E' per questo che in questo momento così difficile, in cui nulla sembra facile, penso che bisogna fermarsi a riflettere, a riflettere che forse dipende da noi, dipende da noi. E niente, vi saluto e continuate a seguirmi.